Ha violato la quarantena domiciliare il positivo multato che è stato denunciato dalle forze dell'ordine questa settimana durante l'azione di controllo sul territorio nisseno, ulteriormente rafforzato come previsto dal piano della prefettura per le verifiche e i green pass. I controlli sono stati in totale più di 4.300, di cui 3.730 persone e 603 tra attività ed esercizi commerciali. Multati i titolari di due attività perché non avevano rispettato l'impiego delle certificazioni verdi covid-19 e due persone, una per il mancato possesso di green pass regolare, l'altra per la tenuta irregolare dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ovvero la mascherina. Una settimana che si è conclusa con il costante impegno delle attività di controllo da parte delle forze di polizia per garantire un'efficace azione di contenimento e prevenzione del contagio e che proseguirà prevedendo il concorso delle polizie locali dei comuni della provincia nissena in tutte le aree cittadine individuate dal piano prefettizio dove sono presenti attività comunali ed esercizi pubblici dove è obbligatorio l'uso del green pass.